Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nono episodio della serie agricola sulla mappa The Grand Jura. Oggi non ci occuperemo della semina perché sto finendo, terminiamo qua l'ultima passata, bensì ci occuperemo un po' della vendita delle colture. Se riusciamo affittiamo un mezzo forestale per qualche lavoretto per riprenderci un po' coi soldi. Facciamo l'ultima passata qua, l'ho errorata e tutto, è già pronto per la raccolta. Qui adesso non sto qua a ripassare tutte queste strisce però passiamo così direttamente. Il dirt al massimo non è male a parte sul cofano che non mi piace moltissimo. Ok, riepidiamo tutto e ce ne torniamo a casa. Velocità ok, al massimo. Magari diminuiamola un pochettino che facciamo 40. E ce ne torniamo a casa con la seminatrice. Mi pare che abbiamo sui 22 mila euro. Dopo gli diamo un'occhiata. Sì è questa qua la strada di casa, no, ho dei ripensamenti. Allora, adesso facciamo la strada in alternativa, ovvero qua a destra. Sbanda un pochettino, è un po' troppo leggero come trattore. Adesso, occhio, adesso non mi ricordo perché è uscita una V2 o V2.1, dovrei sostituirlo. Non so se è già questo o no. Perché io ho scaricato, l'ho scaricato, ma non mi ricordo più solo inserito. Comunque, vabbè. l'ho scaricato. Allora, qui ecco ho messo il torro e il crosetto. Mentre qua, in questo capanno, lascerei. Vabbè, l'asseminatrice potrei lasciarla con i mezzi gran, con i rimorchi. vabbè, lasciamola qua. Comunque, l'abbiamo fatto a 21.000 euro, sì. Con la vendita della paglia che si vende dove vedete la scritta Landi, in basso a sinistra. Ecco, lì è il punto vendita. Sono dei capagni, fate un giretto lì e la troverete. Ecco, mi piace qua il cofano, sulla parte nera davanti dove c'è il muso del trattore che è di quel colore lì, però fa nulla. Adesso ci prendiamo il nostro rimorchio. Se avete qualche consiglio per attrezzatura forestale dittemelo qua sotto nei commenti, cosa non troppo potente. Magari anche un trattorino. Tipo, io sto pensando allo Stair. Allora, vediamo un po' cos'è che possiamo vendere. Allora, io sto guardando patate e barbabietole. Vendiamo. Se no. Allora, poi qua sotto c'è Avoine, che mi pare che era Avena. 1 e 2. Vediamo i punti. Vabbè, dai, andiamo pure per patate e barbabietole che sono da quest'altra parte. Anzi no, patate e barbabietole non le vendiamo. Vendiamo frumento, mi pare che col che ne abbiamo di più. Allora. Andiamo un po' se riusciamo a fare una palla retro. Non prende, no. Ok, frumento, orzo, no, dai. La colsa, poi venderemo. Frumento. Che, no, non ci sta tutto. Guardate, fatemi vedere un attimo qua. Ah, ok. Allora, guardate come si abbassa. No. No. Si, si, si sta abbassando il rimorchio. E anche di tanto, 36.000 litri. Vediamo un po' dov'è che... Beh, 10.000 litri lì, direi di lasciarli. Allora, ecco, è quotato di più. Cooperativa Grand Jura. Si, andiamo Cooperativa Grand Jura. Vediamo un po' che strada possiamo fare. Facciamo questa strada qua stavolta. No. Allora, se io vado di qua... No, non cambia nulla. Quindi facciamo la strada più lunga. Vabbè. In teoria dovremmo ricevere sui 30.000 euro. Poi dipende. Per l'altrizzatura forestale ci potremmo anche... Sicuramente prossima volta. Se magari abbiamo pochi soldi, ditemi voi nei commenti che... Magari io passo con la trebbia a raccogliere il tutto. Vendo la paglia. E poi, così nel prossimo episodio... Ok, qua non ci sono le collision. Così nel prossimo episodio possiamo occuparci di un po' del legname. Ma no, non mi piace molto. Mi avete detto, adesso non mi ricordo più chi nei commenti, che questo, il crozetto, sono dei vaia. colorati di azzurro. Beh, io non posso dire tanto la mia, perché non ne ho quasi mai visti. Le ho visti forse in fiera. Però non è proprio un vaia. Cioè, qualcosina di diverso ce l'ha. Questa coltura qua, alla mia destra, adesso ci sono tutti i pannellini e la... i tulipani, mi pare. Però non è il nostro campo. Può darsi che lo trebbiamo insieme, prima di comprarcelo. non bastiamo la velocità, se no, sbanda troppo. Prima di comprarcelo, perché può darsi che il proprietario ce lo affitti per un po'. Allora, così vedete un po' anche le stradine. Adesso io dovrei ricordarmele. Freccia. Vedete, ci sono anche i cartelli BGA, tutto quanto. Il BGA, che è qua a sinistra. È bello, eh. Non sono rialzate le cocle, quindi potete andare... Ecco, potete venire qua col caricante a scaricare la paglia, forse. Boh, non l'ho mai provato in questa mappa. Comunque, ecco, lo vedete là. Le trincee sono in mezzo con le piante. Devo dire che... è bella come zona, però proprio fare le trincee in mezzo alle piante non mi sembra al massimo. Dai, aumentiamo un po' il passo. Tanto è salita. Non dovrebbe dar problemi. Se è caso, questo tratto lo teniamo per altre lavorazioni. Tipo falciatura e... cose così. Non ci sa anche fare. Però è un bel mezzo. Peccato un po' per i pesi, se no... era fantastico. Anzi, è fantastico, se no... perché c'è ancora il trattore. Allora, dai, non far... Dai, ma che ce la fai? Quanto stiamo andando? 28 km orari. Come... Questo rimarco qua, secondo me, è un po' fuori proporzione. Perché è un po' troppo piccolo. C'è lunghezza della vasca, non so. Magari così anche l'originale. Però... sembra troppo piccolo. Ok. Ci sono, ci sono. Però... John Deere, John Deere. Cosa bella del crosetto con la texture di Dirt che astrice qua. Questa qua che si vede. Adesso si vede ancora poco. Più avanti si vedrà bene. Allora... Adesso io sono misvalido di girare qua a sinistra. Mettiamo la freccia. e giriamo. Ok. Adesso, coprativa grangiura era... questa qua a destra. Sì. Sì, sì, è questa. e facciamo cooperativa grangiura. Sì. Vediamo un po'. Andrebbe darci forse anche 40.000 euro. Però sopra i 36 sicure. Vediamo. 40... Più o meno 60 resteremo di soldi. Quanto ci ha dato? Sì, anche di più di 40.000. 43.000. Perfetto. E così il frumento era sì. L'abbiamo venduto. perché io ho intenzione se... No, non è qua. Se è caso di comprarmi... Dov'è? Eccolo qua. Questo carretto dallo... il carretto lo stepa. Però, boh, ditemi voi cosa mi consigliate. Adesso andiamo a dargli un'occhiata alla zona forestale. Ok. Andiamo a dargli un'occhiata così vi faccio vedere. È una sola. Però non è mai come zona. Eccola là giù. È molto grande. Però, visto che c'è la serie alpina, qui non è che faremo molto a linea. soltanto un po' per passatempo. Vedete? È una zona molto ampia. Anche troppo. Vabbè, la dietro no. Non sono piante. È tutta... Magari è un po' peccato perché c'è tutta l'erba. Potremmo fare magari un po' di sottobosco. Però non è male lo stesso. Sotto vedete le foglie. e tutto quanto. L'entrata sarebbe qua, mi pare. Sì, è entrata con davanti un sasso. Però sono state ecco, una cosa che non... È bella in parte. Tutte le piante storte. Però magari lasciarne qualche una dritta era meglio. Poi abbiamo tutta la nostra zona qua. Prestoccaggio. E nulla. Adesso ritorniamo a casa. E nulla. Questo video qua è un po' così per chiedervi consigli. per il tra... Eh, magari no, boh, non saprei. Tipo utilizzare questo trattore per lo stepa e... No, beh, questo qua ha caricatore frontale se non mi sbaglio. Il sollevatore. No, il caricatore. che è così che si attiva. Esatto. Lo potremmo utilizzare per la raccolta tipo della paglia valle di fieno raccolte delle valle di fieno, eh. Boh, vedremo. Per ora lo utilizziamo così com'è. Se adesso io giro di qua no, entro nel campo. No, no, non entro nel campo. C'è proprio la stradina. Ok, le stradine gialle devo ricordarmi che sono i sentieri. Ok, giriamo a sinistra. Ma io dovrò andare a cacciarmi fino a... Ah, fino a qua sono arrivato. Ok, qua in giro c'è anche... no, no, non è il BGA. Qua c'è un bel campo di maesco a destra. E andiamo, allora. Qua andiamo così. È un po' casino ricordarsi tutte le stradine sulla minimappa, però una volta imparate si va abbastanza bene. Adesso qua ma si la giriamo giù facendo la strada quella la solita. Come trattore per i legname sto pensando allo Stair. Adesso non mi ricordo il modello però 8000. Un modello vecchio, eh. molto fatto bene da MB3D Modelling mi pare si chiami così. L'autore del John Deere 600810 credo. E della trince la non la John Deere la classe Jaguar 870. Allora stavolta andiamo giù a sinistra. poi i campi li compreremo pian piano voglio quasi iniziare con la fine ragione ma lì dovremmo avere almeno un milione per partire altrimenti non se ne fa niente. Allora sto dicendo ma le barbabietole così ah ok qua si prendono perfetto che si chiama Pomme de terre e battere battere boh non saprei comunque visto che vi è piaciuto molto questo pottinger pottinger adesso noi prendiamo direi di finire la colsa dai anzi anzi no la colsa seminerò più avanti andrò a venderla per conto mio direi che per questo episodio è tutto è durato anche abbastanza più del previsto comunque volevo fare un po' di queste lavorazioni un po' di queste soltanto una ne abbiamo fatta tanto anche qui è tutto seminato mi sa tanto che l'orgio lo raccoglierò per conto mio e venderò la pal così da fare ancora un po' di soldi e poi inizieremo ad acquistare nuovi mezzi e attrezzature e nulla ragazzi domani ecco dovrebbe uscire Eurotrack intanto non registro tra un attimo mentre oggi alle 5 uscirà non so devo vedere tra minecraft e mxgp2 se non uno dei due sicuramente l'ho già caricato credo mxgp2 comunque se volete uno o l'altro scrivetemi anche se riesco a caricare in tempo anche l'altro e lo volete ve lo faccio bene e nulla ragazzi spero che il video vi sia piaciuto vi ricordo come sempre di lasciare un bel like condividere il video iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ciao a tutti ragazzi e al prossimo video ciao a tutti